eccoci qui come state ben ritrovati un saluto a tutti di nuovo una buona domenica con il sorriso dai anche se è il forosinone va bene però è sempre con il sorriso mi raccomando commentate numerosi lasciate un like iscrivetevi e ditemi come vorreste finisse la partita di stasera perché per me la partita di stasera può essere molto importante può essere molto molto importante perché dovessero pareggiare avremmo recuperato quattro punti in due partite all'inter e si riaprirebbe un po' tutto però dai vediamo ne riparliamo detto questo scatenatevi con i commenti e prenotate il vostro posto gratuitamente per la festa di settimana prossima tra sette giorni esatti alle ore 19 domenica 10 al fil di serenio ingresso 15 euro complessivo di consumazione apericena quindi si mangia e si beve tantissimi rossoneri colleghe e colleghi di qsvs noi dello staff altri amici youtuber quindi vi aspettiamo mandate un whatsapp al numero che c'è scritto qui sotto organizzatevi con amici e parenti fidanzate mogli mariti o anche da soli perché si lega in fretta e sarà una serata interattiva con anche un videomaker che realizzerà un video e quindi vi rivedrete anche poi su milanello vi aspetto numerosi per notate perché i posti si stanno riducendo giorno dopo giorno allora ragazzi che dire innanzitutto vorrei esaurire rapidamente da un argomento che deve far riflettere poi veniamo però alle cose molto belle e anche una novità che potrebbe essere davvero molto 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 significativa e sorprendente per noi partiamo innanzitutto dal fatto che ieri il pubblico non era numeroso come in altre occasioni c'erano diversi spazi vuoti ma soprattutto c'era ancora come con la fiorentina un po poco calore ecco io dico che il calore tutto lo devi conquistare tu devi meritare e non devi pensare che tanto 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 ci sono sempre si tipo di ci sono sempre però ecco ho scritto anche oggi in mio editoriale su milanews un consiglio non richiesto a scaroni ad esempio che non deve ripetere un giorno sì l'altro pure che lo scudetto è un di più non esiste almeno una cosa del genere che non deve dire a poche ore dalla gara col borussia noi questa gara non dovremmo neanche farla se non fossi stato per penalizzazione la juventus a che pro io dico che serve empatia serve trasmettere senso di appartenenza di milanismo ambizione e voglia di vincere queste cose alla fine contano e se il pubblico è spento è per via dei risultati ma anche dei messaggi che trasmettono non si possono dire certe sciocchezze senza pensare che ci potrebbero essere le conseguenze senza pensare che sei alla c milan quindi capisco cosa è accaduto negli ultimi tempi e sta ai giocatori con umiltà impegno sacrificio dimostrato ieri qualità che mancavano da un po di tempo e che spero non vengano più cestinate sta loro con riconquistare i tifosi ridare loro entusiasmo anche qui c'è una squadra c'è una tifoseria che da agosto 22 a oggi ha fatto per 30 volte presenze superiori ai 70.000 spettatori ok e scarone dice che lo scudetto è un di più e Furlan dice beh potremmo cedere i big vediamo curiamo anche questi aspetti curino anche questi aspetti in ogni caso curioso poi che quando è stata messa la canzone di Battista è stato abbassato il volume pensando che la curva sarebbe partita con il coro invece no in silenzio il pubblico con questo silenzio assordante sta dicendo sta comunicando che è deluso e deve essere riconquistato anche attraverso il mercato di gennaio perché è un fattore importante stando così le cose soprattutto in difesa magari non solo ma si vedrà in tutto questo ieri è stato bellissimo rientro in capo di Ben Nasser che si è fatto davvero un mazzo tanto cosa non scontata per rientrare anche prima se vogliamo Ben Nasser a regime secondo me può come ha detto Fabio Capello la scorsa settimana cambiare il volto del Milan ovviamente non subito l'aveste visto ancora imballato ancora un po' indietro però immaginate il Ben Nasser migliore delle scorse stagioni mettetelo comunque al 70% e beh entra e finisce nei magnifici 4 Ben Nasser, Reinders, Loftuscik e Musa che a 20 anni non può soltanto migliorare sono 4 quindi Ben Nasser il rientro è davvero molto importante tra l'altro mi ha un po' sorpreso positivamente devo dire nel post partita perché lui dice ho lavorato tanto per tornare è stato incredibile oggi cioè ieri sono molto contento avevo tanta voglia per me è stata una grande soddisfazione per me si ricomincia oggi cioè ieri ho lavorato dentro e fuori dal campo per essere qui quando ho fatto l'operazione mi avevano detto che sarei rientrato tra i 6 e gli 8 mesi sono rientrato dopo 7 quindi sono nei tempi giusti dice non ho forzato si dedicherà solo al Milano penserà anche alla Coppa d'Africa domanda interessante risposta sorprendente voglio ritrovare il ritmo e poi vedremo se sarò pronto per la nazionale per partecipare alla Coppa d'Africa se sarò pronto valuterà il CT ma credo sia meglio valutare se convocare qualcuno che al 100% io arrivo da un infortunio importante avremo delle partite prima e vedremo come arriveremo alle sfide della nazionale lo vedo molto sincero e quindi dice che si vedrà se starà bene se starà bene se sarà convocato sono contento perché in tanti avevamo pensato beh fa così per la Coppa d'Africa in realtà no dopodiché se la fa per me comunque non è un male perché può fare un riavolo di riatretizzazione che magari al Milan non può fare completamente dovendo magari subentrare lì forse giocherebbe anche il titolare se non la fa e si concentra sul Milan va bene uguale quindi è il classico caso siccome è win-win cioè che comunque va va bene da febbraio in ogni caso avremo un Ben Nasser non dico al 100% però quel 70% che in questo Milan fa la differenza bene benissimo sono molto contento ed è uno che porterà punti e il centrocampo comunque anche guardando la prossima stagione Ben Nasser, Loftus Schick, Musa, Reinders c'è più che una base non devi stravolgerlo poi il prossimo anno non verranno ceduti i big a centrocampo quindi poi hai Adlipo, Bega, insomma qualcosa cambierà però è un bel centrocampo dove tu magari aggiungi un elemento giovane che piano piano arriva e hai davvero un reparto top che dovrebbe migliorare la quota goal questo sì, Reinders ha fatto un goal Loftus Schick ha fatto un goal Musa a zero ha fatto un assist Adlino l'ha segnato Pobega Pobega ha fatto... sì mi sembra che abbia segnato non vorrei dire cavolate Pobega sì ha segnato in... no quest'anno non l'ha segnato ha segnato lo scorso anno no no quest'anno l'ha ancora segnato quindi ecco i due goal dal centrocampo obiettivamente sono un po' pochi ecco questo si aveva segnato no era... no anche lui non l'ha segnato mi ricordavo che c'era un altro goal dal... dal centrocampo mi ricordavo effettivamente ed evidentemente male a questo punto sì vabbè detto questo comunque un bel centrocampo anche per il futuro però ora vorrei andare a commentare qualcosa di incredibile rimanete fino alla fine perché facciamo... tiriamo insieme una conclusione Mignan lancio guardate il controllo di palla di Pulisic con la calamita controlla difende palla si allarga quasi sbilanciato capisce che l'unico modo per segnare è il tocco sotto detta il passaggio a Mignan la palla questo controllo di palla ragazzi che era lo stadio vale soltanto questo il prezzo del biglietto gli rimane attaccata con un lancio di 66 metri e poi cosa fa? veloce palla al piede difende sta in piedi sbilanciato un po' tocco sotto gol bellissimo coefficiente di difficoltà elevatissimo coefficiente di qualità di questo giocatore è clamoroso ragazzi clamoroso Pulisic è un giocatore un giocatore incredibile e andiamo a vedere anche un po' i numeri perché il signor Christian Pulisic capitano America il nostro esterno a stelle strisce arrivato al suo primo anno in Serie A dopo 12 partite ha già realizzato 5 reti e 2 assist una rete ogni 160 minuti top 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 una rete ogni 160 minuti significa che ogni partita e mezzo lui sostanzialmente un po' più di ogni partita e mezzo fa gol non da 9 da esterno e poi partecipato anche a 2 reti facendo 2 assist sono numeri importantissimi numeri da miglior leao numeri che ci dicono una cosa secondo me che l'acquisto non è stato azzeccato di più abbiamo portato a casa un top player correggetemi se sbaglio nel Milan si diceva c'erano 3 top player Mignan Teo Hernandez e Leao correggiamo integriamo alziamo un livello nel Milan ci sono 4 top player Mignan Teo Hernandez anche se quest'anno l'ho fatto un po' a intermittenza ieri grande partita Leao che deve fare il stato di qualità definitivo e Pulisic abbiamo messo in questa campagna qui si è tanto bistrattata sicuramente un top player e io dico ragazzi purtroppo anche Leao ha avuto problemi gli ha avuti anche Pulisic però se stanno bene entrambi e se sono entrambi in uno stato di forma al top Leao a sinistra Pulisic a destra ragazzi tanta 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 roba poi Giroud sta facendo bene quest'anno per l'anno prossimo bisogna mettere un 9 fortissimo e a quel punto avremmo un attacco stratosferico perché Pulisic è davvero forte io non pensavo così tanto forte ma è davvero tanto tanto forte la parola che più lo rappresenta o che meglio lo rappresenta è la qualità qualsiasi cosa che fa lui ci mette una qualità estrema e sembra rendere facile cose difficili quel controllo certe giocate quando va sul fondo quando rientra ne ha due o tre e va via ragazzi abbiamo preso davvero un giocatore pazzesco per me il miglior acquisto di questa campagna acquisti che giudico comunque positiva e poi vi spiegherò perché andando a vedere poi nel dettaglio allora ieri coefficiente so far so far score 7.9 lo leggo e se andiamo a vedere i numeri della stagione vorrei ricordare che lui ha un grande vantaggio perché è quasi un ambidestro toglierei il quasi tant'è che ha fatto tre gol di sinistro e due gol di destro quindi questo è un vantaggio importante quattro gol in area uno fuori quello col Bologna bellissimo io stravedo lo adoro mi piace troppo è un giocatore di una qualità superiore anzi dico speriamo che non ce lo portino via in estate perché lui si è rilanciato al Milan non credo che siano ancora tempi maturi e direi di no però davvero rimango a bocca aperta e quel contro ieri mi sono messo le mani nei capelli e ho detto che cosa ha fatto continuo a rivedermelo perché fa venire gli occhi gli occhi a cuoricino uno rosso e uno nero e ripeto secondo me la squadra è forte la squadra è forte per le altre conclusioni ci arriveremo poi però ecco se stanno tutti bene la squadra è forte Pulisic in quelle partite lì in cui siamo andati anche un po' male purtroppo la sua assenza si è fatta sentire ecco col Napoli viene sostituito lui messo Romero e andiamo a pareggiarla in altre partite non c'è insomma giocatore di altra categoria però San Siro parla nel silenzio parla bisogna ascoltarlo bisogna riconquistarlo ad ogni livello con intelligenza in campo in panchina in società a livello di proprietà e di calciomercato altrimenti cala la passione o comunque l'entusiasmo la partecipazione e poi i problemi sono della proprietà della squadra eccetera eccetera scatenatevi con i commenti prenotate il vostro posto alla nostra festa di Milanello qui sotto nostra nel senso di tutti vi aspetto vi rimando al video di questa mattina però in cui vi parlo anche del fondo PIF un saluto